Un giorno anch'io vorrei tanto diventare un eroe. Non tutti gli uomini nascono uguali. Non sei un eroe, sei un buono al nulla. E in un mondo di eroi... C'è chi insegue il suo sogno. Ce la devo fare assolutamente. In prima visione Italia 2, My Hero Academia. E a seguire l'ottava stagione di Naruto Shippuden. Lunedì, a partire dalle 21 e 10, su Italia 2. Italia 2, canale 120.